Le scuole sono cantieri aperti in una corsa contro il tempo per trovare spazi adeguati per arrivare il 14 settembre garantendo almeno il distanziamento in classe. Una situazione paradossale a due settimane dall'avvio dalle lezioni considerato che le scuole sono rimaste chiuse per mesi. Ma anche sul fronte del potenziamento del personale docente sembra esserci ancora molta strada da fare. Difficile una fotografia generale della situazione veneta anche perché in mancanza di linee e guida condivise ognuno si sta muovendo in perfetta solitudine ed in ordine sparso. CISL Scuola Padovero Vigo denuncia però un altro aspetto non secondario che potrebbe compromettere l'avvio già a rischio dell'anno scolastico ovvero le incomprensibili situazioni che si sono venute a creare nell'attribuzione della sede ai docenti neoimmessi in ruolo soprattutto nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Per motivi legati alle tempistiche troppo ristrette imposte dal Ministero, 11 giorni appena per gli insegnanti che ad agosto dovevano comunicare la sede prescelta e difficoltà degli uffici scolastici di registrare in tempo reale le rinunce da parte dei docenti delle graduatorie di esaurimento con riserva si è determinata una situazione assurda. Da una parte docenti inseriti con punteggio maggiore nella graduatoria del concorso 2018 hanno visto assegnate province lontane e diverse da quella richiesta. Dall'altra docenti con punteggio minore hanno invece ottenuto l'assegnazione della provincia richiesta. In sintesi spiega Giovanni Vascon, segretario della CISL Scuola Padovero Vigo docenti di Padovero Vigo che erano in posizione utile per rimanere nella loro provincia si sono visti assegnare per esempio Venezia e viceversa. Chi invece stava in fondo alla graduatoria è stato accontentato. Questa situazione paradostale sta creando enormi problemi a tante famiglie perché le richieste espresse dai docenti sono per lo più legate proprio ai rapporti familiari o alla residenza ed è una situazione che tra l'altro potrebbe generare anche una pioggia di ricorsi. Al di là di questi aspetti c'è da chiedersi a questo punto a cosa serva avere un punteggio maggiore in questa graduatoria. Questi insegnanti si ritrovano tra l'altro vincolati per ben 5 anni alla sede attribuita senza poter nemmeno ricorrere alla domanda di assegnazione provvisoria. Questa palese ingiustizia va sanata quanto prima, chiede Stefania Bottone, segretaria territoriale della CIS Scuola Padovero Vigo e non è possibile che l'emergenza Covid ricada sugli insegnanti e le loro famiglie. Su tutto poi pesa l'incognita del personale. Nonostante gli annunci non c'è infatti traccia del concorsone che dovrebbe aprire a nuove assunzioni e lo scorso anno le supprenze per garantire un minimo di organico nelle scuole sono state 200.000, cifra che con l'obbligo di personale potenziato per l'emergenza sanitaria quest'anno sarà ampiamente superata con la cronica difficoltà di trovare in ogni caso docenti di materie scientifiche di cui anche quest'anno c'è estrema carenza.